Ciao a tutti, sono Foufoufouquadro e oggi pareremo di Zuccaripitaros. Allora, lui viveva in Cretacea Inferiore, in Cina, si nutriva di granchi pesci molluschi e insetti, pesava 10 chili, era lungo 3 metri con l'apertura all'area, l'altezza sconosciuta e il suo significato è nomeala di il gardo avvicinato il gardo in Cina dove il fossile è stato trovato. Le mascelle appuntite e sottile di questo dinosauro erano sprovviste di denti nella parte frontale, nella parte posteriore invece c'erano dati smussati simili a pomelli che probabilmente si vivono per rompere le conchiglie. Viveva sulle spiagge dove poteva raccogliere i piccoli animali marini tra le rocce con le sue sottili mascelle. Nessuno può dire con certezza se la strana cresta sul muso dell'animale funzionasse come un timone o se avesse uno scopo diverso. La scoperta di un grande numero di fossili di Suoriterus suggerisce che questo apterosauro potrebbe aver vissuto in colonie dove gli adulti si prendevano cura di piccoli. Per cacciare animali fuori dalle rocce ci doveva essere una grande agilità. Però vabbè, per questo video è tutto, lasciate un piacere e iscrivetevi al canale. Ciao ciao! Ciao!